2-5-5 Tech Talks, soluzioni innovative per automatizzare e ottimizzare processi produttivi Ciao Gabriele Ciao Paolo Ascoltami, ho una cosettina subito da leggerti, podcast di oggi Perfezionismo, tradizionario, tendenza nevrotica di tipo ossessivo che impedisce spesso all'individuo di attuare cose relativamente semplici per eccesso di narcisismo e di autocritica Ma non è una cosa positiva il perfezionismo, cioè le aziende, ne so io, tendono al perfezionismo, è una cosa terribile Tendenza nevrotica di tipo ossessivo Ok Sul positivo poi parliamone No no certo, sicuramente i risultati, una volta che il prodotto, il progetto è perfetto suppongo siano positivi Eh questo è interessante, quando un progetto è perfetto Esiste il progetto perfetto Il progetto perfetto In un'epoca in cui In un dato tempo Tutto è velocissimo Sì, può essere perfetto per un secondo Per un secondo è perfetto Per un secondo, sì Se riesci a venderlo in quel secondo È come qui e ora, no? Sì sì, infatti Qui e ora, quanti ce n'è? Ora È finito Perché voglio iniziare così oggi? Perché è un po' di volte che non facciamo podcast Sì, è un bel po' Cioè dall'ultima puntata è passato un mese e mezzo circa Un mese e mezzo vuol dire che i nostri ritmi prima era una volta alla settimana Vuol dire sei, sette podcast saltati Perché li abbiamo saltati? Per una tendenza al perfezio O al narcisi Come hai detto prima Tendenza neurotica di tipo ossessivo Per eccesso di narcisismo e autocritica Sì Che impedisce spesso all'individuo di trovare cose relativamente semplici E per noi fare un podcast era ormai semplice Dopo 40 e passa puntate Sì, la fase di preparazione, eccetera, eccetera Ma non era più nella nostra mente qualcosa di complesso No, no, no Fattibile No, il punto forse è stato che abbiamo analizzato un po' le ultime puntate Abbiamo iniziato a guardare un po' cosa si poteva migliorare Dalla fotografia al un po' di attrezzatura nuova Non eravamo molto contenti per come girava il podcast tra i social Perfezionismo Sì, perfezionismo Ci ritroviamo in questa cosa Tendenza neurotica di tipo ossessivo E quindi Tra l'altro è una delle prime ragioni in tutti i corsi Adesso c'è nella marea perché ovviamente Dopo che ci hanno chiuso per un anno ebriscola a casa Di procrastinazione Una delle Diciamo degli elementi che ti porta a procrastinare Procrastinare, non credi più Diciamo qualsiasi tipo di attività anche a livello personale nella vita Non solo lavorativo È una tendenza al perfezionismo Certo Ma ha molto senso in realtà Quando ho iniziato il podcast Io sono un perfezionista e sto cercando di allontanarmene Quindi per me è un difetto In che senso è un difetto? Non è un difetto la ricerca continua Il ciclo E qui un po' questo richiama un po' la tecnologia agile software Che noi abbiamo sposato tanti anni fa E poi ci andiamo su sto punto Di continuare a miglioramento continuo Che non è perfezionismo Il miglioramento continuo Sono due cose diverse Il perfezionismo ti tiene fermo Perché Oddio devo iniziare un podcast C'è un microfono Dove c'è un registratore Dove nel telefono ce l'abbiamo tutti Puoi iniziare col telefono Tu puoi iniziare a fare un podcast col telefono Però magari si Comincio a guardare i microfoni Vorrei un microfono di un certo tipo E stai fermo E non fai podcast Quindi tu mi stai dicendo che Pur di iniziare Si inizia a cazzo anche No Assolutamente no Questo è uno degli errori Secondo me A cui bisogna stare più attenti In questa In questa Così Giornata In questo podcast Un po' filosofico Che è una retrospective per noi Perché ci siamo fermati per sette settimane A fare i podcast Dopodiché ci siamo guardati E abbiamo detto Ma che cacchio stiamo facendo Nulla Non podcast Stiamo facendo non podcast E il motivo Stiamo cercando la soluzione giusta Per andare La soluzione migliore Sì E intanto che aspettiamo Stiamo fermi È quello che abbiamo fatto Quindi pur consapevoli Di questo percorso Di questo rischio Siamo stati fermi Quindi ci siamo ammalati Per un mese e mezzo Di perfezionismo Piuttosto che fare E quindi era anche La scusa Non ci sentivamo Neanche in colpa Perché non lo fai Il podcast Perché sto aspettando Di avere l'idea giusta Il fornitore giusto Che mi aiuterà A pubblicizzare A veicolare Meglio Il mio contenuto Finché non trovo Il fornitore Che mi aiuterà A veicolare Il mio contenuto Cosa faccio? Sto fermo È bravo Sì sì Ha perfettamente senso In questo senso Il perfezionismo In questo senso Inizia E in questo senso C'è l'agile Cosa ha fatto l'agile? L'agile Nel mondo Quello dell'ingegneria Del software Che è arrivato Nel 2001 Era il momento In cui Si programmava L'altra metodologia In waterfall Quindi a cascata Certo Quindi inizia da una parte Tutti i passettini Arriva giù in fondo Dove c'è una grande analisi Di tutto Di tutti i requirement Di tutta la burocrazia Di tutto ciò Mesi di analisi Poi inizia a scrivere codice Anni di codice Anni uomo di codice Dopodiché ti consegna il prodotto Allora In un ambiente In cui le cose Stanno relativamente ferme Può anche avere un senso In un ambiente In cui Ogni settimana Succede qualcosa Per il quale Il mondo attorno a te È cambiato Cambiano le regole Cambiano le regole Cambiano le esigenze E se tu Stai lavorando in waterfall Non puoi essere sul pezzo Quindi La regola cambiata Il mondo che cambia attorno È un disturbo Se incominci a restringere L'aspetto temporale L'agile lavora a sprint La sprint Lavora in due settimane Cosa si dice? L'abbiamo già detto qualche volta Ma si dice che in due settimane Io faccio qualche cosa E te lo consegno Completamente funzionante Ritorno a quello che dicevi prima Lo sto facendo a cazzo? Pur di fare a sto punto Faccio anche una roba a cazzo? No Il concetto è È completo Per quelle due settimane di tempo Che quindi è Il perfetto Se lo guardi bene Nelle regole Che mi sono dato Che sono quelle di stare Nelle due settimane Non l'ho fatto a cazzo Si può dire Dobbiamo metterci il B No Cazzo Ok Quindi si potrà dire Vedremo le reazioni Fateci sapere Se per caso Vi abbiamo disturbato Con questo linguaggio Non proprio adatto Ma cazzo comunque È un rafforzativo Non è una parolaccia Metti che c'è qualcuno Che gli dà fastidio Va bene E poi ci scrive C'ha ragione Quindi diciamo Non lo faccio a caso Non faccio la prima cosa Che mi viene C'è lo stesso Tutto il processo C'è il processo Di progettazione C'è il progetto Di analisi C'è la parte di analisi C'è la parte di codice O comunque di attività C'è la fase Retrospective Quindi di Chiusura del cerchio E poi inizia Un nuovo ciclo però È in quella Chiusura E riapertura Di un nuovo ciclo Che ci infilo Il miglioramento Continuo Se queste due settimane Diventano un anno Io posso migliorare Solo la termine Della chiusura Certo E quindi Se attorno Tutto è rimasto fermo Va bene Accettabile Se attorno È cambiato il mondo Io ho un grosso problema Perché ho perso Un sacco di occasioni Il manifesto agile Che prima o poi Riprenderemo Dice Aspetta Che possono trovare Su 255.it Grazie Lo postiamo Molto interessante Anche solo A punto di vista Filosofico Anche se non siete Dei softwareisti Andate a guardarlo Perché È Un manifesto In cui si incomincia A portare A Come si dice In evidenza Il cliente La persona Le esigenze E non tutto quello Che era infrastruttura Che dava fastidio Quindi tutta la parte Se vuoi tecnologica E tu Con la roba lì Incomincia a perdere significato Anche perché Cambia così velocemente Che non mi posso formalizzare Su una roba del genere Che cosa diventa importante Il mio cliente La sua esigenza La possibilità Di continuare a migliorare La possibilità Che Leggo Dal manifesto A intervalli regolare Il team riflette Su come diventare Più efficace Dopodiché regola E adatta Il proprio comportamento Di conseguenza Noi lo facciamo Ogni due settimane La nostra retrospective Quindi ogni due settimane Tu sei Un po' meglio Delle due settimane prima Il tè del futuro È meglio Del tè del passato E non sei stato fermo Non fai l'errore Che abbiamo fatto Del perfezionismo Allora aspetta un attimo Che la piattaforma Ne ho viste tre Di piattaforme Questa mi piace per questo Questa mi piace per questo Questa mi piace per questo Però aspetta un attimo Perché ho sentito Che c'è un'altra Che sta uscendo Che potrebbe dire Che stai fermo E non scegli mai E allora Dato che comunque Devi lavorare Rimani sulla piattaforma Del 15-18 E ci sono in giro Software su queste cose qua Che sono rimasti Al 15-18 E tu dici Ma tu sei Professionisti giovani Che ci lavorano Ma è quella Incapacità derivata Dalla tendenza Neurotica Di tipo ossessivo Che ci impedisce Spesso dall'individuo Di attuare cose Relativamente semplici Quindi non è neanche Nella complessità Di quello che stai facendo No 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 È abitudine È un'abitudine mentale È un approccio mentale E ci siamo cascati Quindi ci terremo Questo episodio Di podcast Per ricordarci Che è facile cascarci Perché poi ti autoscuto Ma anche perché La tendenza al perfezionismo Nella nostra cultura collettiva È vista come qualcosa Di positivo In generale Come 255 Azienda perfezionista Vuol dire Cioè L'idea di perfezionismo Non è questa Definizione Ma è la tendenza A fare le cose precise Fatte bene La 255 Non è un'azienda Perfezionista Non voglio che lo sia Perfetto Tutti insieme Dobbiamo lavorare Affinché non lo sia Perché Se perfezionismo Come nella definizione Vuol dire Intanto una tendenza Neurotica ossessiva Che già Non è al massimo Ma che mi impedisce Di fare le cose Più semplici Allora no Io inizio Inizio con tecnologia nuova Che non ho mai visto Che magari mi dà Anche un po' di franzantino Un po' di paura Ma inizio Sono perfetto Perché bisogna stare attenti Secondo me Tra il perfezionismo E la perfezione Che sono due concetti Molto diversi Con l'idea Di raggiungere un obiettivo In maniera perfetta Ci ammaliamo Di perfezionismo Ma anche la perfezione Diventa un problema Nel momento in cui Il mondo è così veloce Perché come abbiamo detto prima È perfetto adesso Domani Non è più perfetto Devo fare qualche cosa Cosa posso fare? Il giro Un po' meglio Di quello che ho fatto ieri Guardalo anche Da punto di vista del cliente Se io ti consegno Una roba tra Quattro mesi Magari perfetta Dubito Perché si è ben definito Il requirement Quattro mesi prima Quattro mesi dopo Potrebbero essere Già non più perfette Perché in quattro mesi Le cose sono cambiate Le persone cambiano Ma magari Diciamo anche Che sono stato così bravo Da farla anche perfetta Intanto sono passati Quattro mesi In quei quattro mesi Io non ti ho consegnato nulla Non era forse meglio Avere qualcosa E in questo caso Non uso la parola Non perfetto O a caso Cazzo Come dicevi tu prima Perché alcuni La confono Sta roba qua Ma intendo Incompleta O completa Solo nella sua parte Quindi ti consegno Funzionante Questa è la cosa Essenziale E funzionante Cosa vuol dire Per il cliente Ritorno Dell'investimento Immediato Quindi Io dopo due settimane Se sto lavorando In sprint O comunque Dopo un termine Molto più breve Rispetto al progetto Complessivo Io sto già beneficiando Di alcuni Delle Dei ritorni Dell'investimento Quindi Delle obiettive Che mi sono posto Subito Immediatamente Poi magari La migliorerò Aggiungerò un altro pezzo Ogni pezzo Che aggiungo È completo Non è completo Nella big picture E allora Non sarò perfetto Nella big picture Ma io Quella roba lì Non hai tutte le funzionalità La stai usando È completa E qui È il focus Sul cliente O sull'utente Nel caso del software Che è centrale In tutto il mondo agile Perché Anche il modo In cui scriviamo Le storie O comunque Di come sviluppiamo software È dal punto di vista Del cliente O di chi deve utilizzare Quel particolare strumento Perché altrimenti Scendi nel tecnicismo O comunque La soluzione che trovi È una soluzione per te Ma non per chi La deve usare E alla fine Se il software Glielo consegni subito Ma non è usabile Perché non è una soluzione Che quel cliente Può capire O può condividere Il software Non viene utilizzato Ed è come stare fermi Sei fermo Sì In quel caso Sei ammalato di perfezionismo Che non c'entra Con la perfezione Detto che poi È un obiettivo Cercare la perfezione Questa la lascio Non so rispondere No Io voglio iniziare A darti subito Come cliente Voglio darti subito Un risultato Voglio Come Voglio aiutarti A raggiungere Il tuo obiettivo Sul lungo Ma da subito Sì Esatto È il raggiungimento Dell'obiettivo Non è perfezionismo Forse Si confondono spesso Queste cose qua Sicuramente Come hai detto E quindi Tu hai iniziato dicendo Non è un elemento positivo Un fattore positivo Secondo me no Nella definizione Direi proprio assolutamente no La definizione è atroce Perché è qualcosa Che mi tiene fermo E con noi Abbiamo fatto Cioè Sui podcast Abbiamo fatto esattamente Questo errore L'abbiamo vissuto Sulla nostra pelle E quindi è una bella Retrospective Per richiudere il cerchio Il cerchio E ripartire Non abbiamo trovato La società Che ci seguirà A migliorare A completare A aggiungere un gradino In più a quello che stiamo facendo E ci siamo fermati E ci siamo fermati Nella ricerca Del santo grazie E non avendola trovata Vi diciamo Se siete società Che fanno questo di mestiere Aiutateci Iscriveteci Perché vi stiamo ancora cercando Abbiamo avuto Alcuni approcci Con delle società E che non ci hanno convinto Non ci hanno convinto C'è qualcosa ancora Non ci siamo ancora Innamorati Di un'idea Però non stiamo fermi Ripartiamo Ripartiamo i podcast Faremo quello che riusciamo In questo modo qua E intanto è completo Perché il podcast c'è E poi Aggiungeremo Con la prossima Retrospective Un elemento in più E vediamo Cosa potrà succedere Questo secondo me È una bella lezione Che ci portiamo a casa Vissuta sulla nostra pelle Sì Assolutamente Io mi chiedo Se i nostri ascoltatori Sono dei perfezionisti Si reputano Dei perfezionisti Se per loro Il perfezionismo Non è questa definizione Che abbiamo dato noi Ma è altro Perché poi Il significato Ha alle parole Per quanto ci sono Dei significati oggettivi Però Spesso Ci trasmettono Delle sensazioni Più che dei significati Che hanno Delle direzioni Per voi Che cosa significa Perfezionismo Sarà interessante Esatto Capire se Più spesso Il termine Perfezionismo Viene Associato A un valore positivo Esatto Io Per me era così Per esempio O un valore negativo Quindi a qualcosa Che ti proietta in avanti Migliorando O a un qualcosa Che invece ti tiene fermo Questa potrebbe essere Una bella domanda Ci piacerebbe Ricevere qualche risposta Su questa cosa Per evitare Una delle Obiezioni Che spesso viene fatta Alla metodologia agile Che ti dicono Ah ma io non la uso La metodologia agile Perché io quando inizio Devo già avere Perché altrimenti Non inizio mica A cazzo Quella roba lì Eh no Non è quella cosa lì Non è inizio Agile uguale Diverso Diverso Iniziare a cazzo No Sono due cose Completamente diverse È iniziare la parola Io inizio Inizio in qualcosa Che sarà completo Nelle prossime due settimane È completo rispetto Alla big picture No È una piccola parte Ma è una piccola parte Funzionante E quindi mi permette Di essere col prossimo giro Di poterla migliorare Di poter mirare Ancora meglio La big picture Quindi la figura centrale Finale Io la mirerò meglio Perché intanto Che mi avvicino Io sto anche Stai delineando un'idea All'omazzo Mi sto modificando Perché nel momento In cui sto iniziando A lavorare in modo diverso Attraverso l'uso Di un software Noi facciamo i mess Facciamo software Legati alla produzione Di tracciabilità Tu nel momento In cui decidi Di avere un software Del genere Modifichi Comunque Il tuo processo produttivo Sì E non lo modifichi Zero cento giri La chiave È un processo E quindi Se io ho la possibilità Di essere agile E quindi di Modificarmi Intanto che tu ti modifichi Ci modifichiamo insieme E l'obiettivo finale Potrebbe anche essere Che cambia Sì assolutamente Non sostanzialmente Ma che Il ritorno Dell'investimento Diventa molto più elevato Di quello che pensavo Inizialmente Perché semplicemente Mi riosservo Mentre sto cambiando E quindi vado Ad aggiustare il tiro Di volta in volta È essere completo Ogni singolo ciclo Il ciclo In sé Deve essere anche lui Completo E questo Diciamo che mira Alla perfezione Sì Che poi Non può essere Fermata In quel momento Perché non sarà Più perfezione Dopo sei mesi Perché sarà cambiato Il mondo attorno Tu avrai cambiato Modo di lavorare Quindi qualcosina Dovrai andare Comunque A ricercare Nel processo Nella modalità Nelle procedure Ma è un'attenzione Che devi avere Continua Non a caso Miglioramento Continuo Chiaro Certo Mi è piaciuta La puntata di oggi Simpatica Aspettiamo le risposte Sono curioso di sapere Possono scriverle Sia Possono venirci A trovare Sul sito 255.it Scrivere le nostre Mail Personali Possono venirci A trovare anche qui Anche qui Sì esatto Diciamolo Siamo a Desio Sul sito trovano L'indirizzo Sì Ecco Possono comunque Scrivere nella sezione Commenti di Youtube Qualunque canale Su cui state visualizzando Questo podcast Pranne uno Pranne uno Info Chiocciola255.it Non scrivete lì È una roba Scrivete piuttosto Paolo.mergalli Chiocciola255.it O Gabriele.delvecchio Chiocciola255.it Perché è prima le persone Eh sì Esatto Bene Aspettiamo Ciao a tutti Ciao